Giorno in campo e sera nel clave, stegge, altra caccia e champagne I wanna be a Broadway, I wanna be a Broadway Sotto nei piedi, così non so se troveremo tanto ferro, però andremo a prevedere Come tutto mi metto le scarpette, poi ci prendiamo le torce che ne stanno solo 39 Sono poche però La batteria è messa pure al 9% Io non mi vorrei fare ora Cappellino e poi Ho tutto, mi serve solo il pezzo Uno, uno che ne manca Dai, vale Cazzucino La spada, la spada di ferro, eccola qua Prima ora dovremmo aprire Ecco Questa è mia madre Chi è? Eh, resto qua Ciao Ciao Io vorrei scavare da qua, penso eh O da qua Vabbè da qua si va bene Se va bene E qua faremo pure delle scale veloci Quella che sta lì velocemente Ok Sì 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 Così Mettiamo a sembrare le luci Ora io Ora io vorrei andare da questa parte Non so se sta qualcosa di buono Facciamo così che fosse meglio eh Sì 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 Ok Aspettate Ok Ragazzi Ho messo il telefono sotto carico Così sarà meglio Mi serve il carbone porca puttana Sì 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 Allora O sono io che sono sfigato Poi da qua non si trova un cazzo proprio Aspettate Sì 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 Poi Vedetic Sì 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 buono, si vabbè, finito, ah un pittra focaglia buono, ferro, 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 il ferro si va bene, anche a me me ne serve, quindi lo scaveremo, tre, quattro, ok, quindi ora ci servirà questo qua, da qua, uno, due, sei, uno, uno, penso che così basterà, si, la siccome ho, tanto ce l'ho gli altri, ok, ok, stiamo in partita, eh, qua ce l'hai, c'è, quindi c'è qualcosa come un po' ferro, buono, ferro, ferro, vedi già qua, ok, qua abbiamo fatto, copriamo, coperto, ok, il carbone, questo è carbone, questo è sicuro, sicuro, l'apislazuli, buono, che cazzo ho messo la torcia, ok, buono, quindi ce l'ho trovato, oppure la pietra rossa, ho trovato giù la pietra, forse, andremo a scoprire, che cazzo ho messo la torcia, che cazzo ho messo la torcia, ok, noi, qui cazzo ho messo la torcia, questo è? che cazzo ho messo la torta? ma si rompe pure questa sicuro e si dovrei scavare vaffanculo mettiamogli arrivare eccoci a casa un'altra volta metteremo a cuocere il ferro ma non basterà dovrei mettere più cosa allora metto prima la pislazuli e questo non mi serve questo questo tutte le cose che non mi serve le metto qua questo manco sempre solo un ferro ok ci siamo fatti la matura se fosse meglio farci pure sono qua gli altri quest'anno altri quindi facciamo tre scale penso che se sono un artichetto e 16 scarette basta speriamo mi dovrei fare la piccola e ecco anzi faccio due così è meglio mettiamo dentro lo sticchetto e ora andremo a dormire ok scusate non stiamo 15 25 è il tempo di arrivare anzi farò prima le scale ok ragazzi io ho messo tutto le scale qua e anche le scale da questa parte io vi dirò ragazzi che da questa parte non si può andare più perché quel coso non si può togliere mai nella vita ma mai se uno ha qualche idea se uno ha qualche idea ve lo scrivesse sotto le commente io lo farò che vedete sto provando 5000 volte però non ci riesco non ci riesco e quindi proseguiremo da da quell'altra parte da questa carbone è buono quello che mi serve ma sono ciao è chiaro è chiaro si è finito ora però devo prendere il ferro così allora stavo da questa parte questa non è una caverna quindi la chiudo ecco qua non sono visto niente no 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 Non c'è nessuno, sai? C'è il tuo progetto? E' il tuo progetto? È il progetto. Succa oss. Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Poi pune codul blomete nelle scale un modo da scuola buono tanto ferro per noi avete sentito? ma da dove viene quel verso? dove cazzo state brutti zombie? ok quanto carbone? come ne ho? 60 di carbone ora ne sono 64 beh io qua mi potrei fare proprio una casa se voglio eh beh poi si vede sotto le commande se va bene o no ho sempre un altro piccozzo di questo si dai così va bene ecco qua sempre ferro pietra rossa buono mettiamo la torcia da dove cazzo viene il rumore degli zombie io non so se lo sentite però io lo sento da dove viene? cazzo è cazzo è mo ma da otta qua sto si che è un rumore a scopo cosia 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 e ma dò lo so questo tutto su a scopo cosia non lo so lo so lo so tutto su dove ci sono bloccati, quindi io ora andrò da questa parte, ecco qua, beh penso che così basterà, sì, poi nel prossimo video faremo altro, quindi dovremmo salire, ci rivedremo a casa, eccoci qua a casa ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, commentate, ci vedremo nel prossimo video, bella raga Grazie